Ciao a tutti, sono Carla, questo è il mio canale e oggi facciamo un unboxing di una mystery box L'altro giorno una mia amica mi fa Carla, sai che video potresti fare? E io ero, dimmi! E lei? Vendono delle mystery box su Vinted, tu le compri e ci fai un unboxing Ok! Quindi sono andata su Vinted, dove ho già comprato, ovviamente E ho scritto mystery box Me ne sono uscite diverse Ne ho scelte una al prezzo di 10€ Più spedizione, di 1,99€ E con 12€ ho comprato questa mystery box Non so minimamente che cosa ci sia dentro, non so neanche che cosa aspettarmi È leggero, come pacco, devo essere sincera Non ho molte aspettative, perché giustamente con 10€ ho anche cosa vuoi che ti mettano dentro Sono curiosa, come neanche immaginate, anche perché io sono una persona molto curiosa Quindi tenere questo pacco chiuso per due giorni è stato un dramma Quindi, apriamolo Allora Vedo diverse cose Tiro fuori subito questa bustina rosa Molto molto carina E sopra c'è un biglietto con scritto Grazie mille per aver acquistato Qui ci sono dei piccoli omaggi Spero vi piacciono Quindi apriamo subito gli omaggi Ma dai! Ma che carina! Allora Ci sono dei campioncini Di creme, cremine Così Ok E poi c'è un Rossetto Non conosco il brand Si chiama Romantic Bird Matte Rich Color Matte Lip Gloss Dovrebbe essere tipo un rossetto liquido matt Va bene Considerando che sono degli omaggi in più alle cose che ha inserito dentro la mystery box Ci sta Continuiamo con Questo sacchettino Dove all'interno, se non sbaglio, ci sono due cose Tiro fuori la prima Che cos'è? Ma è super carino E un pantaloncino floreale Ma questo mi piace un sacco No vabbè Per l'estate è pazzesco L'ho provato E ditemi se non è super super carino Secondo me questo per una serata estiva Oppure non lo so Anche per andare al mare Super leggero Ci sta un sacco Avevo veramente poche aspettative Perché comunque è difficile trovare in una mystery box qualcosa che ti piacerea in mente E poi c'è ancora un'altra cosa Che è Ma è super carina Una gommellina rosa tutta balse Ma è una gomma o un pantaloncino? È un pantaloncino No vabbè Ma io amo Totale Ho provato anche loro E ditemi Che meraviglia sono Cioè li adoro Poi sembra una gonna Ditemi se non sembra una gonna Però ha la comodità dei pantaloncini Per ora mystery box Super super approvata Ma all'interno ci vedo ancora qualcosa Prima di tutto Tiro fuori Questa fascia Per capelli Per struccarsi tipo È anche nuova Perché c'è L'etichetta Sempre utile Carina Fucsia A questa ragazza piace il rosa comunque Quindi ci siamo trovate Sono stata molto fortunata Perché evidentemente abbiamo gusti molto simili Io non so minimamente chi sia questa ragazza E lei non sa minimamente chi sia io Quindi Siamo state fortunate La utilizzerò sicuramente per la mia skin care Forse ce n'è una simile Però non so dove sia Quindi utilizzerò questa Poi 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 Cosa c'è qui? Un paio di ciglia finte Che Non disturbano mai Servono sempre Allora effetto molto molto naturale E vi dico Non ne ho di questo genere Perché ne ho molto più drammatiche Quindi Vi dico Adesso le apro Vedo un po' come sono Non conosco il brand Però Sono carine secondo me Si possono utilizzare Per un look semplice Ci stanno Quindi anche queste Super approvate Sono veramente soddisfatta Da questa mystery box Non me l'aspettavo Cosa rimane dentro alla scatola? No vabbè No vabbè E' una collanina Con un ciondolino Con una stella Ma è super carina ragazzi Sono scioccata Ma è bellissima Boh Io non potrei che essere più felice Da questa mystery box Mi è piaciuto tutto Tutto un sacco Poi quante cose c'è Alla dentro dunque La collana Un pantalone Due pantaloni Le ciglia finte La fascia Per struccarsi E poi ancora Gli omaggini Dei campioncini E del rossetto Cioè Per 10 euro 12 euro Mi sembra Un super affare Bene Video breve Ma intenso Come avete capito Sono rimasta molto soddisfatta Possibile che lo rifaccia Anzi Volete che lo rifaccia? Che altro tipo di video Del genere Mi piacerebbe vedere? Che così Mi metto in azione E chi lo sa Magari Il prossimo video Sarà proprio quello Che mi avete consigliato Se non siete ancora iscritti Al canale Mi farebbe molto molto piacere Che lo faceste E noi ci vediamo Nel prossimo video Un bacio Ciao